Ciao a tutti amici, mi trovo in una buonissima, ecco questo è il termine giusto, gastronomia, la rosticceria, le tre follie del gusto che si trova in via Giuseppe Cosenza numero 84 Castellammare di Stabbia, consegne a domicilio di ottime pietanze, primi piatti, secondi piatti e sfizioserie, pollo allo spiedo e tanto tanto altro, per le vostre prenotazioni il numero è 081872 1036, che odorino! E sono con il titolare di questa rosticceria meravigliosa che si chiama? Maurizio Elefante Senti Maurizio, vogliamo parlare di questo stemma, perché le tre follie del gusto? Abbiamo scelto le tre follie del gusto perché siamo un po' folli Qual è il piatto più richiesto? Sono gli gnocchi, noci e salsiccia Che bontà, ecco già mi hai fatto venire la colina in bocca, ma per quanto riguarda la rosticceria, noto anzi dalla vetrina che ha un ottimo dorato, cioè alla fine come fate a fare questa frittura così genuina, così buona? Vabbè, usiamo olio di palma Beh Maurizio, a questo punto, invita tutti a venire qui da te? Vi invitiamo qui alle tre follie del gusto, via Giuseppe Cosenzo 84, per degustare tutti i nostri prodotti Molto salutari, facciamo poca frittura, vi aspettiamo dai tre folli E dopo aver parlato con Maurizio Elefante Parliamo anche con il leone, il cognato che si chiama? Catello Ciao Catello, com'è fatto questo torciglione col gusto? L'impasto della focaccia, si è rotola in brussel, una fettina di prosciutto cotto e provola Vogliamo parlare, tu di cosa ti occupi? Di la rosticceria, reparto rosticceria Reparto rosticceria, beh ma adesso diciamola tutta Tu che li crei, ecco tu crei tutte queste bellissime pietanze, tutte queste sfizioserie Qual è quella che ti riesce di più? Diciamo il torciglione col brussel Grazie a tutti Grazie a tutti Ed oltre a Maurizio l'elefante, a Lello il leone, parliamo anche con la bella coniglietta Monica Ciao Monica Ciao, buonasera E allora Monica, tu diciamo che qui il tuo ruolo è quello di accontentare il cliente Cosa sceglie di più a pranzo il cliente? Le sfizioserie varie o il primo e il secondo piatto? No, il primo e il secondo piatto Ma io so anche un'altra cosa, che voi per evitare l'obesità infantile Questa è una cosa importante, perché qui vengono tanti bambini Anche durante la pausa con la scuola Mangiano, ovviamente sfizioserie varie Però loro per evitare appunto di farli appesantire Fanno molte più sfizioserie che non siano di frittura Ossia? Di forno Di forno, quindi più stelle con... Calzoni al forno, panini più al forno, patate al forno Facciamo anche frigidoria, però la maggior parte è più al forno Il giorno di chiusura? Domenica pomeriggio Mentre invece le consegne a domicilio si effettuano sia a pranzo che a cena Sì, più sera, al momento più sera Beh, allora, per le vostre consegne a domicilio Io faccio ripetere il numero di telefono a Monica 081-872-1036 Se l'hai ricordato e vai! Ciao!